Buone notizie in arrivo per cinque comuni della provincia di Pesaro e Urubino. La Regione Marche ha infatti assegnato i finanziamenti del bando per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici pari a un totale di 1.235.000 euro. L'obiettivo è quello di incentivare il risparmio energetico e ridurre l'impatto ambientale. I contributi vanno a Gabice, Pesaro, Cartoceto, Sasso, Corvaro e Sant'Angelo in Vado. A Pesaro, ad esempio, 440.000 euro saranno destinati al progetto architettonico per la riqualificazione dell'osservatorio Valerio. A Cartoceto, invece, 200.000 euro, e cioè l'entità massima del cofinanziamento pari al 75% del costo totale del progetto, verranno investiti nell'ex auto rimessa per realizzare una officina della creatività. Una notizia molto positiva che attendavamo da tempo. Avevamo partecipato più di un anno fa a questo bando dedicato all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e per noi significa poter avviare i lavori della terza tranche di riqualificazione di tutta quest'area in cui ci troviamo. La prima aveva interessato all'epoca la riqualificazione della copertura dell'edificio dell'ex auto rimessa comunale di Cartoceto. La seconda fase invece aveva coinvolto l'ex pista polivalente con la realizzazione di una nuova infrastruttura sportiva che tra l'altro in parte ci aveva anche confinanziato il CONI tra i primi 30 progetti in Italia. E questa sarà la terza tranche che invece ci garantirà di poter partire con i lavori di riqualificazione dell'intera struttura dedicata all'epoca auto rimessa comunale e che sarà un luogo di cultura, di musica, di socialità e che sono sicuro saprà donare e garantire ulteriore vivacità e anche vivibilità al centro storico di Cartoceto.